per la città e per la città non puerto a fare un'esericione se ora la città non puo in senso non puo in esperienza non è sicura non puo in senso non è sicura un'esericione non puo in senso Cosa è un po' di borsa? Non, è un po' di centro, un po' di centro e un po' di biciore stancato. Si è messos, è un brasiliano saristero, è un po' di... se si è legittimato se si è legittimato se si è legittimato non è legittimato non è legittimato o a venuto un giocatore se non legittimato non è giocatore si potete discutere poi potete rascondere se si no se si no si no non è legittimato